Allora, signor Cobra, io è vero, sono infortunato, ma a niente nessuno vietava a mio fratello di partecipare all'Academy Cup e vincerla, e quindi meritassi il titolo, la title short scusami, per i titoli di coppia, title short che mi sembra che... Sì, hanno vinto! Sì, non li hai vinti con me, però fa niente, dai. Allora Cobra, tu dici che noi come tatt team non abbiamo mai battuto nessun avversario a 5 stelle? Guarda che c'è scritto sul bidone, Charlie Heads, un ex campione italiano, poi Mr. Excellent, un molto tecnico, Mark Fee, un ex campione. Coach Lillo? No, Coach Lillo, ma Coach Lillo! Vabbè, insomma, il succo del discorso è... Vuoi un avversario a 5 stelle per il 17? Il 17 dov'è che siamo? Bergamo, Bergamo. Il 17 a Bergamo, ah? Big Bang! Big Bang! Big Bang! Allora, hai in mente te? Big Bang! A volte parlo, quindi... Allora, parliamo di un pluricampione italiano, un pluricampione di coppia e un holofamer, quello di... Com'è che si chiama? Bacca di gloria? Bacca... 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 Bacca di gloria! Che cazzo! Vabbè, comunque, il 17 a Bergamo, a Big Bang, Tony Callaghan contro... E questa... Sarà la tua fine! Aaaaaah!